Dottore Pubblico, lei è stato denunciato in rappresentanza dell'amministrazione comunale dal primo circolo didattico perché non ha ancora rilasciato l'autorizzazione per il funzionamento della sezione primavera. Come sta la situazione? Buongiorno, prima di tutto. Mi meraviglia che ci sia una notizia di questo genere, di denunzia nei miei confronti o dell'amministrazione comunale per non aver lasciato l'autorizzazione. Per la verità è una vicenda molto vecchia che risale a qualche mese fa. Abbiamo chiesto alla dirigente scolastica di avere degli elementi di valutazione per poterla rilasciare. Io personalmente ho convocato la dirigente scolastica su indicazione del prefetto che regge l'amministrazione straordinaria del Comune di Pozzuoli. Non ho avuto dei riscontri sulla professionalità dei soggetti che vengono utilizzati, mi risulta che sono già utilizzati, per la sezione primavera e soprattutto che siano soggetti, come dice la norma, dedicati. A questo punto, dottore, che cosa succede? Io, non avendo avuto elementi chiarificatrosi dal dirigente scolastico, abbiamo fatto un quesito al Ministero della Pubblica Istruzione, abbiamo fatto un quesito a Lancia e un quesito alla Direzione regionale della Pubblica Istruzione. Credo che fra qualche giorno mi scioglieranno, ci scioglieranno il quesito, dopodiché prenderemo tutte le valutazioni, tutte le decisioni di competenza. Posso aggiungere solamente una cosa. L'amministrazione comunale ci tiene molto alla scuola, tiene molto ad avere i finanziamenti per far funzionare bene la scuola, ma prima dei finanziamenti e prima dei proclami, per noi, per il Prefetto, per la città di Pozzuoli, vengono prima i bambini, la tutela e la salvaguardia dei bambini. Poi anche i finanziamenti che giusti che arrivano.